Le contraffazioni e le frodi colpiscono ancora una volta il cuore del settore agroalimentare italiano. È indispensabile un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e garantire la tracciabilità delle produzioni. Questo è il commento di Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Lega Ambiente, sul sequestro effettuato dai NAS di Cremona di 2300 prosciutti DOP in circa 40 stabilimenti di stagionatura, emiliani e friulani, prosciutti ottenuti da maiali nutriti con rifiuti speciali. Un sequestro che conferma ha fatto sapere Cogliati Dezza quanto denunciato nel rapporto Ecomafia. Nel 2011 i reati contro la filiera agroalimentare si sono più che triplicati rispetto al 2010. Secondo Lega Ambiente tuttavia, oltre ad un adeguato sistema di etichettatura, servono interventi e pene più severe per impedire che il traffico dei rifiuti illeciti alimenti la filiera agroalimentare, insieme ad un maggior controllo per garantire la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e dei consumatori. Questi gli strumenti di difesa e tutela dei prodotti made in Italy e dei produttori che ogni giorno lavorano rispettando le regole per la produzione dei prodotti DOP seguendo le buone pratiche agricole.